Buonasera. Come di consueto alcuni aggiornamenti sulla situazione del nostro comune. Dopo molti giorni di situazione decisamente stabile sul fronte sanitario, nei dati che ATS mi ha comunicato oggi compare una nuova persona che è risultata positiva al tampone del coronavirus. Si tratta del primo caso di nuovo positivo da circa un mese. Tutti noi abbiamo sperato che non ci fossero più contagi, ma evidentemente, come le autorità continuano a ripetere, la situazione di emergenza non è ancora rientrata. A questo proposito vi ricordo che è stata emessa una nuova ordinanza da parte di Regione Lombardia, che conferma l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e aperti al pubblico, inclusi mezzi di trasporto. Mentre all'aperto si può non indossare la mascherina se è possibile mantenere in sicurezza la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Se non è possibile garantire questa distanza anche all'aperto è necessario indossare la mascherina. In ogni caso, quando si è fuori casa, è obbligatorio avere con sé la mascherina. Non ci sono invece variazioni negli altri dati sanitari che riguardano la nostra città. Quindi, con oggi, il numero dei cittadini che risultano tuttora positivi al virus è di 3, mentre sono ferme le guarigioni e i decessi. Abbiamo 9 cittadini sottoposti a quarantena domiciliare, con date di fine provvedimento entro ferragosto. Nel mese di agosto gli uffici comunali funzioneranno ad orario ridotto. Prima di recarvi negli uffici, vi suggerisco di utilizzare il telefono o la mail per mettervi in contatto con gli uffici stessi e di controllare sul sito del comune i giorni e gli orari di apertura estiva. Anch'io mi assenterò per qualche giorno di ferie, anche se stiamo lavorando per tutti gli adempimenti necessari alla ripartenza delle attività con il mese di settembre e sarà necessario riunire la giunta anche nelle prossime settimane, soprattutto per approvare i lavori necessari sui plessi scolastici in vista della riapertura delle scuole. Voglio augurare quindi a tutti voi un buon mese di agosto ricordandovi di avere un pensiero di rispetto per gli animali domestici e per il nostro territorio. Il comune di Vimercate aderisce infatti alla campagna contro l'abbandono degli animali domestici. Condanniamo questo fenomeno criminale che provoca sofferenza negli animali che ci hanno fatto compagnia durante l'anno e che adesso ci fa comodo tradire con l'abbandono. Questo comportamento può essere anche causa di incidenti stradali. L'altro appello è il rispetto dei terreni coltivati. Abbiamo raccolto la segnalazione degli agricoltori che subiscono danni dovuti a chi calpesta i terreni coltivati o semplicemente lascia che i cani li usino come spazio per correre e lasciare le loro deiezioni. Anche se non ce ne rendiamo conto, in questo modo creiamo un danno al terreno e alle coltivazioni. Vimercate è una città che ha grande rispetto per il suolo agricolo. Con il PGT approvato recentemente abbiamo esteso a tutela del parco pane oltre il 50% di tutto il territorio di Vimercate, eliminando la possibilità di cementificare su molte aree libere. Purtroppo non è stato possibile fermare alcuni degli interventi che erano stati previsti nel precedente piano e le cui procedure sono state avviate prima dell'approvazione del nuovo piano, motivo per cui molti di voi hanno notato il movimento di alcuni cantieri anche in zone centrali che prevedono la realizzazione su suolo libero e che erano contenute nel precedente piano di governo del territorio. La pianificazione del territorio ha le sue regole e gli effetti delle scelte si vedono anche a distanza di anni. Noi abbiamo cercato di restituire e tutelare più territorio possibile al suo utilizzo naturale. Per questo chiedo a tutti i cittadini di rispettare il nostro ambiente e la nostra agricoltura. Grazie.